Musica Serie C, 36esima giornata, finisce 2-2 al Barbetti, Tragubbio e Pordenone, con doppiette di Barison e Casiraghi, salvezza ad un passo per il rosso-blu. Ternana, finisce 0-0 a Gorgonzola, quinto pari filato per le fere. Calcio, Serie B, il Perugia pronto a ricevere lunedì sera il Curi, il Lecce al fine di tornare appieno in zona play-off. Volley, play-off Superlega, Sir Perugia, giù Altebrecca, Modena in gara 2 di semifinale, decisivo Lex Zaitsev. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione sportiva. Calcio e Serie C in questo sabato di Pasqua, dove si è giocata la 36esima giornata del Girone B di Serie C. Sì, è il Gubbio che affrontava al Barbetti il Pordenone capolista e voglioso di festeggiare proprio in terra e gubina lo storico salto in Serie B. Dovrà aspettare la formazione fiulana, perché? Perché è arrivato alla fine un pareggio per 2-2 e la vittoria della Triestina successiva sul Ferralpisalò per 2-0. Rimanda il verdetto, visto che a due giornate dalla fine sono cinque i punti che separano la prima e la seconda in classifica. Ma il Pordenone potrà comunque festeggiare domenica 28 in casa contro la Gianna Erminio in caso di risultato positivo. Il Gubbio invece ad un passo dalla salvezza, ma riviviamo quello che è successo al Barbetti tra Gubbio e Pordenone con il servizio della partita e le interviste al presidente del Pordenone Mauro Lovisa, al tecnico del team fiulano Attilo Tesser, al capitano del Gubbio Torre di una doppietta Daniele Casiraghi e al tecnico rosso-blu Giuseppe Galderisi in una partita condizionata molto anche dagli episodi e dalle decisioni arbitrali. Vediamo. Il Gubbio riceva al Barbetti un Pordenone deciso a festeggiare una promozione in B che sarebbe storica nel turno numero 36 del girone BDC. 3-4-1-2 per Galderisi che schiera Tofanari in marcatura con Casiraghi trequartista e De Silvestro Plesci in attacco. 4-3-2 per Tesser con Gavazzi dietro Ciurria e l'ex Candellone. Inizio prettamente tattico, poi al ventitresimo De Silvestro sulla trequarti destra commette un fallo veniale su Burrai. Alla battuta va lo stesso numero 8 Nero Verde che effettua uno splendido traversone a centroarea. Barison prende il tempo a Ferretti e di testa sotto misura batte Marchegiani. Pordenone subito avanti alla prima palla goal della partita. Per il Gubbio ci prova De Silvestro al minuto 27 penetrando in aria e calciando sul primo palo Sfera sull'esterno della rete. Al quarantunesimo invece è Misuraca a centrare la porta con un pregevole coll'esterno da fuori aria. Marchegiani salva in corner. Passano 60 secondi e Plescia fa correre sulla finistra Pedrelli. Cross in mezzo intercettato con un braccio da Burrai vicino alla linea che delimita il vertice sinistro dell'area di rigore. Per l'arbitro Nicoletti di Catanzaro nessun dubbio e calcio di rigore nonostante le proteste ospiti che chiedevano soltanto la punizione dal limite. Dal dischetto va Casiraghi che trafigge Bindi per la rete dell'1-1 che chiosa fra l'altro anche la prima frazione di gioco. Nella ripresa subito dentro Chinellato per Plescia nelle file rosso-blu e dopo due minuti Zammarini commette un ingenuo fallo su Casiraghi al limite dell'area. Lo stesso numero 10 rosso-blu si incarica della punizione calciando sul palo di Bindi che probabilmente non si aspettava tale soluzione. Il portiere De Ramarri parte di fatto in ritardo e tocca soltanto la sfera che si infili in rete. Gubbio in vantaggio grazie alla doppietta del fantasista Trevigiano che sale così a quota 6 marcature stagionali, peraltro il quarto sigillo nelle ultime quattro giornate. Tesser inserisce Germinale per Misuraca per aumentare il peso offensivo e al 55esimo De Agostini croffa da finistra. La palla deviata spiove a Campanile e Germinale manda per le terre Tofanari in maniera probabilmente irregolare ma per l'arbitro non c'è nulla. L'azione prosegue, ciurria calcia, la difesa contrae ma non allontana, sbuca Barison che si traveste da centravanti di razza e con un destro potente batte Marchegiani sotto la traversa. I rosso-blu protestano per il fallo non segnalato su Tofanari ma l'arbitro irremovibile, doppietta da Cineteca per il centrale difensivo ex Bassano che sale così a quota 5 segnature stagionali. Conti rileva Benedetti ma al minuto 63 da una punizione profonda di Burrai Marchegiani esce a vuoto ma nessun giocatore ospite trova l'impatto aereo vincente ed FRT con un doppio colpo di testa ad allontanare la minaccia. Al 77esimo Pedrelli croffa da finistra. Bastoli chiude suchinellato ma irrompe De Silvestro che controlla e calcia, Bindi blocca. Lo stefo De Silvestro poi lascia il post a Campagnacci e la partita scivola via senza ulteriori sussulti sino al 94esimo. Quinto risultato utile consecutivo per un gubbio che ipoteca la salvezza e proverà a giocarsi negli ultimi 180 minuti stagionali le residue Speranza e Playoff. Domenica prossima sconto diretto in tal senso a Riviera delle Palme contro la San Benedettese dell'ex Magi. Io credo che l'episodio a 45esimo primo tempo sia determinante. 50-70 centimetri fermo e il giocatore continua a dire alle albito guarda che sono saltato e sono fermo, sono qua fuori. Eppure è l'ennesimo episodio a sfavore importante che mi amoreggia molto onestamente perché dopo anni di sacrifici e di lavoro credo che queste cose non devono più accadere. Questo è troppo clamoroso, per l'ennesima volta abbiamo subito un errore clamoroso. Noi ci abbiamo provato, abbiamo provato a vincerla. Una partita che sapevamo difficile perché il gubbio si arriva ai punti anche per centrare la salvezza. È venuto fuori una partita combattuta, magari non bella sotto allo speso tecnico perché non è stata una bella partita, è stata una partita combattuta sotto all'aspetto agonistico. Da questo evento ha dato molto fastidio, ha rovinato moltissimo secondo me un po' il gioco. E poi quell'aggressività che tutte e due le squadre hanno messo in mostro in mezzo al campo ha impedito il gioco. Penso che nell'economia della gara quel calcio di rigore del 45esimo che è un metro fuori aria, mi ha detto che l'ha visto per televisione, quindi è accertato, non stiamo parlando di dettagli piccolissimi. È il quinto rigore in otto partite che prendiamo, così qualcuno dubbio? Penso che sia un po' che abbia condizionato il resto della partita. Bravi noi a recuperare. Sapevamo dell'importanza della partita e quindi ho cercato di dare il mio contributo alla squadra. Comunque la squadra si è comportata al meglio facendo quello che abbiamo provato in settimana e quindi credo sia merito di tutti. Sapevamo che affrontavamo un periodo con partite difficili, con squadre forti, organizzate per vincere il campionato. Però è un campionato dove anche con le squadre meno organizzate si fa fatica e bisogna affrontare ogni partita al meglio e credo che l'abbiamo fatta e continueremo a farlo queste ultime due partite. Beh, intanto dico che i miei ragazzi sono stati bravissimi in questo periodo. Non è un periodo difficile, gli faccio i complimenti perché tutte le partite ce le stiamo giocando alla pari con l'idea di poter battere chiunque e abbiamo incontrato le migliori. Adesso abbiamo ancora due partite da fare, sono due partite importantissime perché dipenderà da quello che succede oggi nel nostro girone ma comunque sono partite che noi dobbiamo cercare di portare a casa. Però questa è una squadra che sotto l'aspetto delle motivazioni, dell'unità di intenti, io sono felicissimo e orgoglioso di aver dato tutto me stesso e sono convinto che noi riusciremo a finire alla grande. Basta andare a vedere le partite, a Vicenza il primo gol era in fuorigioco Netto, che non si inventassero niente nessuno, che se vogliamo andare a vedere le cose io dico che da quando sono io qua non ci hanno dato niente a nostro favore ma noi ci siamo guadagnati tutti col sudore, questa è la verità, ma senza voler togliere o dire o attaccare l'albitro no, è la verità, questo era fallo Netto, l'ho visto da 10 metri, era impossibile, ha fiscato 3-4 falli in mezzo al campo che erano molto inferiori a quello, quello di Casiraghi era fallo, all'inizio non fischiava niente e se io mi guardo indietro penso anche all'andata, quello contro il Pordenone, abbiamo avuto tante buone occasioni e non ci hanno fischiato niente. E la Ternana invece non va oltre lo 0-0 a Gorgonzola contro Gianna Erminio, è il quinto pari di fila per la formazione rosso-verde che raggiunge così quota 40 punti, domenica 28 le Fere proveranno a centrare una vittoria che ancora non è arrivata nel 2019 contro il Ravenna al Liberati. Per la Serie B invece sarà in campo lunedì sera all'ora 21, il Perugia pronta a ricevere Alcuri il Lecce per riportarsi appieno in zona play-off. Recuperato Jomber in difesa, da valutare Kisley che ha avuto un lieve malore nell'ultima seduta. Sentiamo ora le parole di Mr. Nesta nel pre-gara. Un piccolo pensiero, non è crederci proprio fino al fondo, magari ci abbiamo provato, abbiamo fatto di tutto per cercare di mettere la squadra in una posizione di classifica per arrivare al rush finale per poi giocarsi quello che si sta giocando in Lecce. Non ci siamo riusciti per i limiti nostri, è così, il campionato che abbiamo fatto è stato questo, senza rimpianti, adesso abbiamo portato, siamo riusciti a portare la squadra a giocarsi play-off e questo è l'obiettivo adesso, l'obiettivo è questo qua, ognuno è dei propri. Adesso la classifica è quella lì, se parte da zero chi fa più punti da qui alla fine, è un mini campionato, questo è un passaggio di questo mini campionato importante. Vincere con Lecce in casa sarebbe tanta cosa, tanta roba, ma per tutto, per la classifica, per il morale, per se batti una squadra così ti dà grande coraggio, grande entusiasmo. Perciò è un'occasione anche per noi, per tanti modi. E occupiamoci ora di Calcio a 5 giovanile, perché lunedì di Pasqua torna la seconda edizione del torneo di Fuzz al Città di Gubbio, riservata alla categoria Under 15, organizzato dalla Scuola Calcio Fontanelle. Se le formazioni partecipanti, tra cui i padroni di casa del Fontanelle, allenati da Leonardo Argentina, e la rappresentativa Umbra di mister Federico Mariotti. La prima fase si disputerà dalle 10 in poi, con sei gare in contemporanea sia alla palestra polivalente che al CVA di San Marco, mentre dalle 14.45 del pomeriggio si terranno le varie finali, con la finalissima fissata per le ore 16.45 alla Polivalente. E in chiusura spazio al Volley e alla Superlega per fare il punto sulla semifinale play-off tra Modena e Sir Perugia, che ha vissuto ieri il secondo atto in terra emiliana. La vendetta dello Zar, in un palapanini sold out con 5.000 presenze di cui 300 supporters bianconeri, Azimut Modena, trascinata dal magistero superiore dell'ex di turno Zaitsev, supera al Typewreck Sir Perugia in gara 2 di semifinale Scudetto, rimettendo tutto in equilibrio dopo il successo dei Block Davids nel primo atto. Perugia dominante per 19.25 nel primo set, ma poi il sestetto di Velasco si scuote e con un doppio 25.22 ribalta il computo nel quarto set. I Block Davids rialzano la testa e chiudono avanti per 23.25, rimandando il verdetto al Typewreck. Sul 4.3 arrivi il decisivo mini-break emiliano, che si porta sul più 4 al cambio di campo, punteggio che la Sir non riesce più a recuperare sino al 15.9 e 3.2 finale. Non bastano a Perugia i 51 punti della coppia Atanasevice-Leon, che mettono a referto 27 e 24 segnature, mentre Modena è presa per mano da uno Zaitsev stellare, capace di chiudere con 30 punti e assoluto MVP della partita. La Serie, ora in perfetta parità, si sposta nuovamente al Palabarton, dove nel lunedì di Pasquetta si disputerà all'ora 18 una fondamentale gara 3, con i bianconeri pronti a difendere il fattore campo davanti al proprio pubblico. Eravamo spesso in vantaggio nel secondo o terzo set, poi abbiamo sprecato due o tre palle di fila, naturalmente qui a Modena non te lo puoi permettere. Chi pensava ad un 3-0, pensa forse che questo sia il torneo della parrocchia, insomma questi sono i play-off del campionato italiano, contro Modena, Modena, non è facile vincere qui. E quindi sì, si gioca subito, il calendario è fittissimo, vale per tutti, quindi niente, insomma si dice sempre che i calendari sono un po' così, non c'è mai tempo per riposare eccetera, ma probabilmente non frega alla fine a nessuno, perché tanto ogni anno è sempre peggio e quindi è così. Una bella serata, una serata dove siamo riusciti ad esprimerci con tanta aggressività, anche dal punto di vista mentale, perché la partita comunque è stata sempre più o meno equilibrata, a parte forse un primo set un po' così, per il resto niente, bella serata, bel palazzo, bel pubblico, molto bello. È facile entusiasmarsi sicuramente, però dobbiamo prendere coscienza del fatto che, come hai detto tu, abbiamo perso praticamente tutti gli scontri diretti durante la stagione, a parte la Supercoppa, questo è il primo che vinciamo facendo una prestazione molto solida e trovando di fronte una squadra che ha giocato alla grande, quindi dobbiamo prendere coscienza, mettercelo nello zainetto e portarcelo a Perugia. Siamo davvero in chiusura, ricordiamo che stasera alle 23 futi RG per sport e incontri torna raccontando storie di vita e pagine di sport a cura di Antonello Tacconi. Si parlerà dei libri Il ragazzo che sognava di giocare al Curi di Nicola Mucci, che sarà ospite peraltro in studio, e Campobasso, una porta per la Serie A di Francesco Andrea Brunale che interverrà telefonicamente durante la puntata. Ospite in studio anche Mario Goretti, ex calciatore che negli anni Ottanta ha vestito sia la maglia del Perugia che quella del Campobasso. E' tutto per quanto riguarda anche questo appuntamento con l'informazione sportiva, futi RG, l'informazione torna ovviamente la prossima settimana, intanto l'augurio di una serena e felice Pasqua a tutti voi, buonasera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.